Lo dico subito eh, questi non sono consigli finanziari, ma mie semplici valutazioni, che se ne dica e dica sono solo mie idee. Ecco, adesso l'ho detto così ci siamo tolto il pensiero davanti. Ora ti dico quali sono le mie idee per l'investimento per il 2024, così poi alla fine del video mi dici la tua, in merito. Bentornati, nel 2022 una mattanza dei rendimenti, una carneficina che non si vedeva da molto tempo, l'S&P 500 quasi a un meno 20%. E chi se lo immaginava? Per vedere qualcosa di simile o di peggio bisogna andare addirittura al 2008. Ma il 2023 sta andando alla grande. Certo, non si può prevedere il futuro, ma possiamo guardare meglio ai mercati e cercare di capire su quali settori puntare nel 2024, visto che per il 2023 ce ne sono rimasti solo 3 dei mesi e poi andrà a finire nei cassetti. Quali sono le asset class che sono state più martoriate nel 2023? Considerando questo possiamo anche valutare se il ciclo economico si sta andando a direzionare verso una determinata fase e possiamo capire se investire in determinati asset maltrattati nel 2023 possa essere un'idea. Quindi partiamo a capire quali sono i settori che hanno sottoperformato e dove sia il potenziale per il 2024 che, come ben immaginiamo, sono stati influenzati notevolmente dai tassi di interesse e ovviamente partendo dal presupposto che questi vengano piano piano abbassati, prima o poi le cose dovrebbero migliorare. E poi, per ogni settore ti vado a dire anche quale azienda potrebbe valere da pena tenere d'occhio. Per mediana di rendimenti usiamo l'S&P 500 che a fine agosto del 2023 dava più 14.6% appunto di rendimento positivo. Ti ricordo che se non vuoi perderti nessun approfondimento in merito a uno di queste aziende o anche se vuoi avere un'anteprima delle aziende che aggiungo alla mia watchlist, puoi sempre iscriverti al mio Patreon a costo di una colazione al mese dove possiamo andare anche ad approfondire in privato le aziende che andiamo a menzionare in questo video. Servizi pubblici, public utilities, il settore che ha performato peggio in questo 2023 sono proprio le utilities. A fine agosto 2023 hanno un track record negativo del meno 11%. Un track record sicuramente non invidiabile ma che pone l'accento sul fatto che questo settore può essere il migliore da andare ad analizzare per andare a beccare delle opportunità. Fra le varie aziende che si potrebbero tenere d'occhio in watchlist c'è Via Renewables col ticker VIA. Questa azienda vende elettricità e gas a più di 300.000 clienti in quasi 20 stati americani e ha riportato solidi risultati nel secondo trimestre del 2023 con un aumento degli utili di oltre 6 milioni di dollari e una crescita annua del fatturato di circa 10 milioni di dollari pari a circa il 29%. L'azienda piccolissima ha solo 63 milioni di dollari di market cap ma che ha 117 milioni di asset e 55 milioni di cash a fronte di circa 110 milioni di dollari di debiti. Il problema al momento sono gli interessi che non sono ben incoperti dalla liquidità. Buyback da parte di Insider durante il 2023 e questo è un buon segno. Ma vale la pena analizzarla secondo te? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Passiamo poi al real estate. Qui si casca nel mio settore preferito. Questi amati e odiati Ritz da un po' tutti hanno ceduto sempre a fine agosto 2023 il 3.2%. Impattato molto di più durante l'anno sta leggermente recuperando ma si possono trovare delle belle sorpresine di investimento anche fra le large cap del settore ad esempio Realty Income. Ma se si cerca un possibile multibagger allora vi dico che nella mia watchlist ci troveresti BlueRock Home Trust col ticker BHM. Azienda con 159 milioni di dollari di market cap che ha lasciato sul terreno quasi un meno 24% durante il 2023. BlueRock è una società con sede a New York che si occupa principalmente di immobili residenziali come casi unifamiliari. Nel 2022 la società ha registrato un massiccio flusso di capitale pari a 4 miliardi di dollari e alla fine del primo trimestre del 2023 ha aumentato il suo fatturato di poco in più di 2 miliardi di dollari ma ha anche riportato una perdita per azione. Però equities che sono tre volte la market cap a 486 milioni di dollari a cui si aggiungono anche 84 milioni e mezzo circa di dollari di cash. Di contro solo 160 milioni di dollari di debito. Anche qui buy back da parte di insedere durante il 2023. Anche questo buon segno ma anche in questo caso vale la pena analizzarla secondo te? Fammelo sapere sempre nei commenti qui sotto. Cuidiamo poi con i consumi difensivi cosiddetti consumer staples quelli di coca cola e di pepsi che in questo 2023 non sono stati proprio all'altezza della loro fama difensiva. Ad agosto 2023 avevano reso solo un meno 2.3% gne 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 ma c'è che è fatto molto peggio ma che potrebbe anche fare molto meglio nel 2024. Infatti in Focilist ho questa azienda Medifast col ticker MED. Azienda che ha lasciato il meno 31.5% sul terreno dell'arena e che potrebbe invece anche lei recuperare un bel po' nel 2024. Un'azienda che vende una varietà di prodotti per la perdita del peso, il controllo del peso e uno stile di vita sano. Tutti basati sulle sue formule proprietarie sotto i marchi Octavia, Optimal Health by TechShape. La linea di prodotti di Medifast include più di 65 opzioni consumabili fra cui non solo ma anche barrette, snack, pretzel, snack soffiati, cereali croccanti e bevande, scelte abbondanti, avena, pancake, budini, gelato e crema frullati, dolci morbidi e zuppa. Insomma se magna ma si dimagrisce secondo loro. Economicamente sta messa divinamente pur avendo una market cap di più di 850 milioni di dollari a zero debito, 147 milioni di cash e 185 milioni abbondanti di asset. Di recente è stata fatta una grossa operazione di vendita di azioni da un insider per un conto valori di più di 3 milioni e mezzo di dollari ma a parte questo durante tutto l'anno 2023 diversi insider hanno continuato ad acquistare quote dell'azienda. In aggiunta parliamo di un'azienda con un dividendo vicino all'8% all'ordo della doppia tassazione con un payout del 53% circa. Niente male no? Ma ne vale la pena analizzarla? Secondo te ovviamente? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Oltre ai commenti sulle tre aziende fammi sapere anche cosa ne pensi di questi tre settori, se hai altre aziende in watchlist o in portafoglio all'interno di questi segmenti o di altri segmenti che hanno sottoperformato nel 2023 e che magari vorrei condividere con noi. Se vuoi un approfondimento in merito ad una di queste aziende o a tutte o se vuoi avere anteprime su aziende che aggiungano la mia watchlist puoi sempre iscriverti al mio patron al costo di una colazione al mese dove possiamo anche approfondire in privato le aziende menzionate. Come sempre ricordandoci che questi non sono le consiglie a investire o non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento, in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea comincia a far parte di questa grandissima e bellissima famiglia e community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto!